Ehi aspetta aspetta, non schippare, non schippare assolutamente ok? Quanti di voi hanno degli obiettivi nella vita? Penso tutti, ma è anche vero che moltissimi di voi hanno paura di non raggiungerli mai. Al tal proposito voglio dirti questa cosa, abbi fede perché lui in te crede, tu sei un guerriero e se ti affidi a lui ci riuscirai davvero. Grazie a tutti.